La voce di Cellino San Marco racconta la lunga storia con Romina Power. E la discusa relazione con Loredana Leciso. Nella lunga carriera costellata di successi Albano ha sempre dovuto fare i Conti con una situazione sentimentale che lo ha sempre inseguito senza mai dargli tregua. Con due matrimoni alle spalle il cantante di Cellino San Marco, anche contro il suo volere. Ha spesso fatto parlare di alcune situazioni che hanno messo ostacoli. Di mezzo ai rapporti con Romina Power e Loredana Leciso. In un'intervista al settimanale Oggi, Albano parla della love story più celebre, quella con Romina. È una storia che nasce da lontano, io, figlio di un contadino. Negli anni d'oro dello spettacolo italiano sposò la figlia di un grande attore di Hollywood, Tyrone Power. Le confesso, e glielo giuro, che non sapevo chi fosse lei e lei non sapeva chi fossi io. Con Romina è stato un amore a prova di bomba. Quando ci unimmo in matrimonio. Molti giornalisti scrissero che la stavo sposando per una notte d'amore sbagliata. Le parole dei giornalisti, secondo quanto dice il cantante sono state scritte. In riferimento alla primogenita della coppia, Ilenia, la figlia scomparsa alla fine del 1993. Si permisero perfino di dire che il nostro matrimonio sarebbe durato un mese. Frasi vergognose che io e Romina abbiamo superato alla grande. Potere di un'unione durato la bellezza di 29 anni. Sono stati anni bellissimi, incredibili e irripetibili. Quando Romina manifestò una certa stanchezza verso il nostro rapporto, fu molto difficile per me. Quando gli viene chiesto di raccontare meglio la difficoltà Albano risponde. Non ho mai fatto il meridionale possessivo, o con me o non esisti più. L'ho rispettata, ho accettato le sue decisioni, le ho sopportate. Ma di punto in bianco mi sono ritrovato solo. Quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza. Dice la casa che insieme avevamo costruito a Cellino. Che fino a poco prima della sua partenza era piena d'amore. Di affetti e di bambini che gridavano, si è trasformata in vuoto, in silenzio, in qualcosa di tombale. La fine della storia con Romina è stato quindi un colpo basso. Che lo stesso cantante non ha superato con semplicità. Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse. Desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l'amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l'aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà. E' stata l'oredan ha deciso a fargli risollevare la testa. Ma non ha resistito all'idea di ricostruirsi un nido familiare, con l'oredan ha deciso, mi è sembrata subito una gran brava ragazza. Intelligente, con una buona dialettica, ho ricominciato a vivere. Sei mesi bellissimi ma anche in quel caso le difficoltà non sono tardate ad arrivare. Comincia a partecipare a trasmissioni tv facendo cose che io non potevo certo apprezzare. Così le ho manifestato tutte le mie riserve. So che tra gli addetti ai lavori si diceva perfino che la regia. Di queste sue velleità artistiche fosse mia, una autentica bestialità. Albano Carisi e Romina Power tornano al centro del gossip con nuove rivelazioni scioccanti. La coppia più amata, che ha fatto la storia della musica italiana. Si è separata poco dopo la scomparsa della loro primogenita, Ilenia. Finora, la causa del loro divorzio è sempre stata considerata questa. La sparizione di Ilenia ha portato i due cantanti a prendere una dura decisione, quella di separarsi. Questa situazione ha avuto un grande impatto nella vita di Cristal e Romina J.R. Come hanno raccontato recentemente in un'intervista. Stando alle parole di Albano, però, la verità sarebbe un'altra. Albano dopo la scioccante notizia dall'Ucraina. Ultimamente Albano è stato vittima di un grave malinteso. Tutti i giornali hanno riportato la notizia che l'ha coinvolto riguardo una presunta blacklist ucraina. In cui il cantante di San Marco Cellino sarebbe una minaccia per la sicurezza nazionale. Ovviamente, Albano non l'ha presa bene, tanto da dichiarare apertamente. Di non avere più stima per il presidente russo Vladimir Putin. E che avrebbe ricorso alla corte di Strasburgo per risolvere la faccenda. Coinvolto in quello che sembra essere un racconto comico, è stato anche Toto Churutanie. Amico e collega di Albano che si è raccontato a live non è ladurso. Le confessioni scioccanti sul matrimonio con Romina. La faccenda dell'Ucraina ha legato il cantante alla sua ex Romina Power. Infatti i due si erano riuniti artisticamente proprio in Russia. Dunque, una notizia che lo ha toccato nel profondo. Inoltre, in una recente intervista, Albano ha raccontato il motivo della loro separazione. Affermando che è stata Romina ad organizzare tutto e a decidere il divorzio. E' lei che ha portato il germe della separazione nella famiglia Carisi. Prima di allora nella mia famiglia non si sapeva cosa significasse la parola divorzio. E' lì che si è uscita l'americana che è in lei. Forse anche l'amata Cellino a lei stava stretta ha raccontato Albano. Insomma, una rivelazione scioccante che proprio non ci aspettavamo. Albano e Romina di nuovo insieme per un concerto? Torna la coppia più famosa d'Italia. Albano e Romina sono pronti ad esibirsi nuovamente in pubblico. Nonostante i problemi avuti dal cantante nelle ultime settimane. Ecco tutte le informazioni a riguardo. Conto di tornare sulle scene al più presto. Inizierò l'anno nuovo con cinque concerti in Germania con Romina. Ormai siamo tornati a lavorare insieme senza screzi e con ottimi risultati. Queste le prime parole pronunciate da Albano dopo l'infarto che l'ha colpito ad inizio dicembre. Nonostante il cantante abbia subito un'operazione al cuore, ha iniziato a pensare subito agli impegni lavorativi. Inizierò se cased! Grazie a tutti.